La consegna dei giorni scorsi alla comunità di Itri da parte dello storico Daniele Iadicicco di una reliquia appartenente al Beato di origine itrane Paolo Burale d'Arezzo potrebbe consentire di riprendere e accelerare la fase di canalizzazione del cardinale di origine Aurunche che prima di accettare dopo numerosi tentativi la nomina Vescovile di Piacenza e quell'Arcivescovile a Napoli è stato nella seconda metà del Cinquecento a fianco delle periferie sociali di quell'epoca ha combattuto in prima persona un facile carrierismo nella chiesa un fenomeno antico ma ora molto osteggiato anche dallo stesso Papa Francesco su una delle tentazioni da rifugire per il clero quelle del carrierismo il Beato Paolo era proprio gli antipodi di questo e si vedono poi i frutti perché quando poi le cariche le accettate per obbedienza le ha svolte per amor di Dio e quindi per amore dell'uomo storicamente provata è stata la fortissima devozione del cardinale Burale d'Arezzo nei confronti della Madonna della Civita e beh da Bonitrano non poteva non essere devoto della Madonna quindi e lui è anche scritto sulla santuatura i pellegrini illustri che sono saliti a Sacromonte il comune di Itri ora si adopererà con tutti i suoi mezzi perché il giurista di cui si fidava Papa Pio V guadagli ben presto gli onori degli altari questo evento come un'occasione per riaccendere i riflettori su una figura di grande spessore ho detto sia culturale che umano una persona adotta come lui laureata in utroque iure come si diceva una volta cioè in diritto civile canonico che nel mezzo di una carriera assolutamente eccelsa forense ha pensato in realtà di mettere la sua persona a servizio dei più deboli come aveva già fatto come avvocato e poi come con funzioni diciamo da giudice come consigliere reggio a Napoli quindi si era fatto conoscere assolutamente per delle doti umane assolutamente doti umane che oggi piacerebbero a Papa Bergoglio